Cosa bolle in pentola per il 2022? Beh, ho pensato che mi piacerebbe tantissimo creare per voi tutorial non solo di ceramica, ma anche di altre arti e artigianato. Per quale motivo? Perché mi piace tantissimo l'artigianato lavorare con le mani e quindi voglio condividere con voi questa mia passione. Chiaramente non metterò assolutamente da parte la ceramica, anzi, quello che cercherò di fare è mischiare tutte queste arti alla ceramica in particolare. I primi video che vorrei creare appunto non sulla ceramica saranno sulla cianotipia, sulla serigrafia, sulla lavorazione dei metalli e sulla scultura in generale e cercherò di applicarli appunto alla ceramica. Ma mi chiedo, anzi ti chiedo sì, proprio a te! Ditemi nei commenti che cosa vorreste vedere, che cosa vorreste imparare sul canale in modo da costruire insieme il palinzesto della nuova stagione e divertirci insieme e scoprire nuove forme di artigianato. Quindi fammi sapere cosa ne pensi e ci vediamo prestissimo con tantissimi tutorial su questo canale. Un saluto, ciao ciao!